Sono giorni che si parla della difficoltà di partorire all'ospedale Iazzorino di Vibo Valenza, dopo la lettera inviata anche alla stampa del personale in forza al reparto di genercologia, seguita da una denuncia cautelativa al fine di declinare ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. Prontamente avevamo chiesto l'Ulmi al direttore generale dell'Asp, ma ora la vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo, con la convocazione da parte del prefetto Guido Longo di un tavolo al quale sono stati invitati il comune, il commissario per il piano di rientro Massimo Scura, che per la verità non si è presentato, il delegato per la sanità della regione Calabria Franco Pacenza, i vertici dell'Asp, nonché i sindacati e i parlamentari Censore e Dali Lanesci, dalla cui richiesta era partita l'idea della convocazione di questo tavolo e che invece quasi un'ora dopo l'inizio della riunione non si era ancora fatta vedere, delegando il suo medico di fiducia e i consiglieri regionali. Ho portato una serie di relazioni a dimostrazione che le cose non sono proprio così come sono state denunciate. Parte dei problemi sembrano derivare dalla mancanza di un primario. Si è fatto il solteggio. Finalmente arriverà? Allora, guardi, il primario deve arrivare a tutti i costi. E noi ce la stiamo mettendo tutta, però voglio precisare una cosa. È il terzo sorteggio che facciamo. Quindi io mi auguro che gli ultimi sorteggiati diano la loro disponibilità. Altrimenti oggi dirò che vedremo cosa dobbiamo fare affinché componiamo la commissione per il concorso primario. Dall'ultima riunione a Roma del tavolo interministeriale di monitoraggio e verifica sul debito sanitario della Calabria e il cosiddetto tavolo a duce, i numeri consegnano una situazione al limite del disastro, con un aumento del disavanzo addirittura decuplicato e la spesa della migrazione sanitaria che ormai sembra abbia raggiunto la stratosferica cifra di 300 milioni di euro. Una situazione sempre più insostenibile, come conferma d'altronde il consigliere regionale delegato alla sanità, Franco Pacenza. Per quanto ci riguarda, la situazione è abbastanza chiara. Purtroppo, ahimè, è drammatica, oltre ad essere chiara. Il dato incontestabile è che la nostra regione, da otto anni ormai in commissariamento, e in queste ore, in questi giorni, anche per i dati che ha certificato il tavolo a duce, rischia di ritornare in piano di rientro. Di questo taluni dovrebbero rispondere, invece di fare provocazioni politiche che non hanno nessun senso. Noi rischiamo ad oggi di ritornare in piano di rientro, con tutto quello che significa sul piano delle prestazioni, sul piano della tassazione aggiuntiva, sul piano del blocco del turnover rispetto alle assunzioni personali. Quando Oliverio dice con grandissima sofferenza che bisogna interrompere questa spirale non più accettabile, in cui la nostra regione, i calabresi, pagano i tributi più alti per avere il servizio sanitario meno adeguato del Paese. E poi c'è l'aspetto dell'emigrazione sanitaria che è altissima. Ma per questo. C'è noi dopo otto anni di piano di rientro, l'emigrazione sanitaria è aumentata di oltre il 40% rispetto al dato di partenza e noi continuiamo ad essere la regione che fa del viaggio della speranza ormai un fenomeno sociale. Lei avrà visto, in questi giorni abbiamo presentato questo studio fatto dalla Bocconi, anche in termini di numeri e di consistenza. Possiamo, ahimè, purtroppo affermare che in Calabria in ogni famiglia purtroppo c'è un disoccupato e in ogni famiglia purtroppo c'è un viaggio della speranza. Queste due cose non sono più tollerabili.